Il duello per certi aspetti unilaterale a colpi di mail che contrappone l'assessore Marchigiani al capogruppo forzista Everest Bertoli assume contorni sempre più politici. Stamani il centrodestra storico, compatto, ha annunciato l'intenzione di chiedere alla Marchigiani di rendere noti i documenti chiesti tempo fa da Bertoli, altrimenti adirà a vie legali per rifiuto ed omissione di atti d'ufficio. Perché questo è il punto, non tanto che la Marchigiani abbia definito Bertoli odioso in una mail interna, quanto il fatto che l'assessore abbia negato i documenti richiesti, tanto che ora formalmente è lo stesso sindaco ad essere chiamato in causa. Un assessore che chiede a due dirigenti comunali di trovare un modo per non dargli la vinta a Bertoli, ovvero per non fornire i documenti che si vengono richiesti, la vicenda è gravissima, ripeto, e quindi chiediamo un intervento politico immediato del sindaco. E l'unico intervento che può esserci è quello di revocare le deleghe all'assessore Marchigiani. La risposta di Cosolini a stretto giro di posta non nasconde una buona dose di irritazione da parte del primo cittadino riguardo l'intera vicenda. Io mi sono scusato con il consigliere Bertoli, credo che altrettanto fa l'assessore Marchigiani per quello che è stato sicuramente un errore. Credo che non bisogna mai mancare di rispetto alle persone, mai mancare di rispetto ai consiglieri comunali in esercizio delle loro funzioni. Va detto che questo accade, talvolta anche da parte dei consiglieri comunali, nei confronti di altri consiglieri o nei confronti di membri di giunta, l'episodio per quel che mi riguarda è chiuso.